Start, 2, 1, instant mission and liftoff! Quindi praticamente dovremmo avere accesso praticamente a tutta la mappa, sappiamo già cosa dobbiamo fare, la mappa è assolutamente immensa, guardate quanto è grande e quali sono i luoghi da visitare, non voglio spoilerare nulla però insomma la mappa è bella grossa. E finalmente posso usare il fast travel, cosa che non potevo fare prima, ora non lo posso fare perché sono nel dungeon, comunque in sintesi sono sceso qui, è uscita la schermata del tutorial che mi diceva qui potrei ottenere equipaggiamento molto importante però qui ci sono anche tanti nemici. Andiamo a provare, ho altre due novità, ho sbloccato le unghie quindi potete trovare delle decorazioni per le vostre unghie che potete andare a cambiare e vi danno dei bonus, in questo caso bonus incantesimi, immagini di supporto, attacchi e tutti i danni subiti, potete personalizzare una mano e l'altra. E un'altra cosa invece nella sezione incantesimi avete modo con la tasto R di cambiare una schermata e passare a questa con queste scritte viola vedete, potete accettare da un libro che trovate, io ne ho trovato uno in città poi in realtà magari ne trovate altri, potete accettare delle sfide riguardo agli incantesimi, in questo caso ho accettato quella dove devo arrampicarmi fino a un tot di altezza, quindi a questo punto devo raggiungere 500 metri, ne ho fatti 22, quindi pian piano la farò, sconfiggere nemici vulnerabili alla magia, 10, e colpire tre o più nemici con un singolo colpo con la sassata esplosiva, fatto questo otterrò dei bonus, quindi ho preso anche tralcio che è un bel incantesimo, sassata esplosiva è caricata, quindi andiamo a vedere questo dungeon, il dungeon è, vabbè mi dice che devo andare a 400 metri avanti, quindi andiamo a vedere in che cosa consiste, mi posso anche arrampicare qua, posso dare un'occhiata ma non c'è assolutamente nulla, e andiamo a vedere, magari è solo una cosa veloce, non lo so, non lo so, non l'ho mai visto, non ho mai neanche voluto vederlo dai video in streaming, perché il gioco non me lo voglio spoilerare, già ho visto delle scene iniziali, me ne sono rovinate, ok, devo colpire tre nemici con uno di questi, e riuscire a completare questa missioncina qui, vediamo se... voglio provare quell'incantesimo che ho sbloccato da poco, il tralcio, bellissimo! Un'altra cosa importante è se voi fate la scansione, questo non l'avremmo visto, premendo X poi ulteriormente ci darà i punti deboli, ci dirà, ci farà una scansione di quelle che sono le debolezze dei nemici, qual è l'efficacia della nostra magia, questa è una cosa molto comoda. Adesso, là abbiamo un colpo finale da fare, credo, no? Non so se sono riuscito a completare quella quest di colpire tre nemici con un colpo solo, comunque... Ho preso un grado stella, quindi è andata abbastanza bene. Comunque, facciamo una scansione, vediamo subito se nell'ambiente ci sono oggetti da raccogliere, là c'è qualcosa, penso solo là. Quindi, lo recuperiamo. Ah, infuso curativo, mannaggia, non mi serve. Non mi serve al momento perché sono pieno. Ho espanso ulteriormente la borsa dei curativi e ho espanso anche quella dei materiali raccoglibili, quindi mi sono dedicato un po' al crafting. Uh, mana. Mana e c'è anche qualcosa qui da fare. Sì, vediamo un po'. Nuova magia. Apre, vediamo. Che non riesco a capire. No, voglio vedere l'incantesimo. Allora, viva, usare la tua capacità, creare sempre, creare la quante... Ok. Vale dell'ottone. Ci dice anche dove. Ma... Ok, niente. Vediamo. Tocca il monumento per tornare all'ingresso. No, 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 no. No, 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 no. Mi interessa. Mana. Mana, sì. Ok. Continuiamo ad andare avanti. 220 metri. Sembra un dungeon introduttivo, eh. Non mi aspetto nulla di che da questo primo. Vediamo. Ah, no. Non ho completato quasi niente di quelle sfide. Devo farlo tra l'altro dieci volte colpire tra i nemici nello stesso momento con le magie. Con la sassata, scusate. Ok. Riesco a fare F. Ok. Ok, uno è andato. Ok, questo è andato, resta quello grosso. Abbastanza scoordinato. Eh, ma... Devo dire che è andata molto bene. Molto, molto bene. Scansione? Ho visto già un oggettino là. E uno là. E uno là. Tre ce ne sono. Ok, allora qua non posso prendere niente perché infusi curativi ne ho già. Beh, ne uso uno. Eh no, sono già al massimo della vita. Mi spiace. Qua ne prendo un altro. Solo infusi curativi ci sono qua. Me l'hanno resa semplice. Questo è un nuovo materiale. Drusa terza. Non ne avevo. Ah, primo tab, vedo cos'è. Vedo qual è l'aspetto. Ok. Andiamo avanti. 126 metri. Siamo sempre più vicini. È un corridoio, in sintesi. Siamo stati teletrasportati qui, quindi qui siamo vincolati a... Ok? Accamparsi. Se hai della linea da andare adatta, puoi usarla per accamparti. Ti è venuto C per iniziare ad accamparti. Ti ricordo che i mostri continuano ad attaccarti, quindi cerchi di trovare un posto sicuro. Ah, interessante. Ho trovato legna da addere. Devo tenere premuto C. Ah, però, questa è una cosa molto interessante. Non ci sono nemici. Tengo premuto C e mi accampo, così proviamo una nuova meccanica. Non finisce neanche dopo 5 ore. Vabbè che mi sono perso via, però... Posso creare, riposare o andarmene. Creo. Vediamo. Aumenta la capacità della borsa per materiali. Lo posso fare? No. No, posso fare niente. Niente. Vabbè, non mi riposo perché non ne ho bisogno. Andiamo, dai. Andiamo avanti che... Il dungeon non aspetta noi. Ha fatto un'entrata in grande stile. Oh, il boss? Eh sì. Cos'è, un idra? Deinosokus. Allora... Beh, l'ambientazione è bellissima qui. E il tizio lì... Bello che mi flutto anche in... Siamo stati individuati. Beh, dovrà venire qui, no? Ok, vediamo. Immune intrappolamento. Pugione all'alucinazione. Immune bloccato. Allora di vista... Ok. Non possiamo avvicinarci. Non possiamo buttarci in acqua. Tra l'altro qua sto soffrendo un po' a livello di... di fluidità. Beh, gli ho fatto anche un bel danno, devo dire. E onestamente non ho rampini, non ho cose varie per andare su... Ula! Questa era un... di curo. Sì, poi probabilmente sta laggando perché sto anche registrando. E il problema è quello. Con Altra potete targettare il nemico un po' alla Souls. Ma lo staccherei subito perché... Perché Altra non so se posso andare effettivamente lì o no. Sì. Aia, aia. Voglio fargli la super mossa. No, non posso in acqua. Sì, salute. Sì, salute. Mia, Das. Lo sta andando benissimo. bellissimo posso volare usando il percorso sull'aria interessante beh non è messo benissimo quindi dovrei farcela mi conforta sapere che non è così punitivo come gioco devo spostarmi e continuo a farmi del male molto male ahia no è vulnerabile a questo ok dai ce l'abbiamo fatta credo di diventare un bel 10 in realtà mi hanno preso E ah un oggettino là c'è da prendere ok infuso curativo ok ne abbiamo recuperato uno dai cerchiamo di andarcene è molto dinamico molto divertente il combattimento diciamo che finora non mi sono mai stufato di mettermi alla parola con i nemici perché comunque il combattimento è abbastanza veloce e non è neanche così punitivo quindi non se dovessi morire ogni due metri evitare i combattimenti diciamo che il gioco è lento su altre cose le fasi in città dove i dialoghi comunque vi tengono impegnati tanto anche come attese così quindi comunque questa è la fase dove veniamo ricompensati vedete tutte queste pause dopo aver visto quello che dovevamo vedere insomma sono tutte cose che spezzano un po' il ritmo nel senso ci gioco quando ho tempo insomma se ho fretta non gioco a Forspoken in sintesi perché so di queste altare antico iscrizione un tempo la gente di redda è la nostra alleata ciò cambiò il giorno in cui invio un demone è la nostra terra si nutriva il dolore del nostro popolo e non desiderava altro che la nostra completa distruzione perfetto abbiamo scoperto qualcosa leggendo l'iscrizione e ora io voglio il mio premio queste deviazioni si chiamano le secondarie e dovrebbe avermi dato la collana adesso sì in prex l'accessario è nascosto nelle profondità inizia un effetto di guarigione automatica quando viene sconfitto un nemico bellissimo molto bello la equipaggiamo subito e poi tentiamo anche di potenziarla anche al santuario al rifugio insomma come si chiama ok questo è l'inizio andando lì sopra siamo stati teletrasportati giù qua possiamo uscire ma in realtà vorrei prima andare nell'equipaggiamento e caricarlo insomma eccola qui prex ci compare vedete che adesso ce l'abbiamo al collo e abbiamo un potenziamento tra l'altro andando probabilmente qui vediamo se c'è qualche potenziamento attivo tra l'altro io devo andare mi ricordo più dove adesso ma credo devo andare qui e ci sarà ad esplorare vorrei finire prima questa zona qua prima di andiamo qui il rifugio viaggio rapido sì che tecnicamente non costa nulla siamo arrivati e tentiamo il potenziamento potenziamento la collana allora possiamo la regione automatico si indisca quando viene scompito un nemico perfetto abbiamo altre due cose che possiamo prendere più salute più difesa più magia viola no i colpi critici no colpi di grazia consumano meno vigore no danni da veneno dimezzato no resistenza riduzione la difesa i colpi critici possono ripristinare la salute sì ci sta anche questo quindi io direi che possiamo abbiamo quello che ci serve per potenziarlo no questo ok abbiamo ancora un tratto ma aspetto perfetto abbiamo fatto questa build semicurativa ora esco e vedo di andare avanti infatti eccolo là il labirinto est lì che abbiamo affrontato ed è completato credo perché non so se tornandoci ci darà ancora no infatti ora devo trovare il modo di scendere da questa parte e andare verso la torre campanaria del piano rigoglioso ma tra l'altro anche il monumento della giustizia abbiamo l'aumento di una caratteristica quindi devo andare alle mie spalle allora l'obiettivo finale è un chilometro e 26 mentre a 200 metri c'è questo edificio qui che questo obelisco insomma questo questa cosa che mi potenzierà quindi mi domando se riuscirò a ad andarci o avevo bisogno di qualcosa perché questa è una zona abbastanza vediamo se se riesco a salire qui no no devo devo studiare devo studiare come fare a raggiungerlo a meno che eh non mi va più su di così mannaggia devo trovare un modo assolutamente devo trovare un modo perché la mappa non mi è ancora molto chiara ah qua sono le nostre missioni beh stiamo salendo tanto quindi pian piano stiamo livellando devo capire come andare avanti beh me la studierò per intanto secondo episodio diciamo di approfondimento finito dove abbiamo provato il dungeon ora penso che dovremmo aspettare solo se mai poi arriverò alla fine un'opinione finale insomma intanto vi ringrazio per chi ha comunque anche commentato lo scorso video e ragazzi alla prossima ciao ciao